bene eccoci seconda parte del video tutorial dedicato a come creare un'infografica dinamica sfruttando un file di dati esterno abbiamo visto nella scorsa lezione cosa faremo e adesso lo facciamo come iniziamo facendo un po di pulizia nel mio caso crea una nuova composizione una nuova cartella la chiamo old e ci vado ad inserire tutto il materiale che non utilizzerò per fare un po di pulizia crea una nuova composizione perché partiamo da zero la chiamiamo main principale e diamo le dimensioni in 1920 x 1080 ok 1920 x 1080 fantastico 25 fotogrammi al secondo 12 secondi ok cominciamo da capo chiudiamo quello che non ci serve ed eccoci qua iniziamo con l'importanza il footage vale a dire le immagini di biden e di trump e la bandiera americana clicco in porta e iniziamo a creare il nostro sfondo bandiera americana dentro la nostra timeline accomodiamo la nostra bandiera per renderla grande quanto la nostra composizione ok fantastico creiamo un nuovo livello di tinta unita colore blu lo chiamiamo sfondo blu ok e a questo punto sfruttando le modalità di fusione dei singoli fotogrammi diamo un look alla nostra bandiera in questo caso luce ecco la luce lineare ci permette di avere una bandiera molto scura dietro dove le parti più chiare prendono il colore blu del nostro del nostro solido appena creato chiaramente posso utilizzare qualunque altro tipo qualunque altra modalità a mio piacimento forse la luce intensa è la migliore perché evita che le parti più scure della bandiera siano troppo scure comunque a vostro piacimento abbiamo creato il nostro sfondo faccio una pre composizione tra i due livelli perché perché faccio la pre composizione perché voglio che tutto quello che riguardi lo sfondo venga spostato nella composizione che sto per creare chiamata appunto sfondo quindi pre composizione ok vedete che ho creato una nuova composizione al cui interno trovo gli elementi che compongono lo sfondo e nella mia composizione principale ho soltanto un altro un'altra composizione sfondo in cui ho appunto annidato i livelli che ho importato poc'anzi ok chiaro se non è chiaro non vi preoccupate nelle lezioni del corso abbiamo parlato della pre composizione e abbiamo visto un po dei concetti che fin qui abbiamo abbiamo esposto andiamo avanti creiamo subito il nostro grafico come fare perché era il nostro grafico ci facciamo aiutare da una griglia griglia proporzionale cosa fa questa griglia non viene renderizzata serve solo a noi per avere dei punti di riferimento stando attenti a non selezionare nulla nella nostra timeline utilizziamo la penna per creare l'asse verticale e per creare subito dopo l'asse orizzontale ma voi direte a non si vede perché è chiaramente perché non c'è il bordo inserito di 5 pixel il riempimento in questo caso non mi interessa se clicco fuori vedere che ho appena disegnato la prima il primo asse stessa cosa senza selezionare nulla nella mia timeline clicco in prossimità della fine del mio asse verticale per disegnare l'asse orizzontale eccolo qua zoom per assicurarmi che siano allineati i due assi direi di sì forse posso alzare poco poco ecco qua l'asse orizzontale ancora un pochettino ancora un pochettino forse ancora un pochettino sapete ok i due assi sono perfettamente allineati adesso eccoci qua asse orizzontale e asse verticale nell'asse verticale vado a inserire i numeri quindi 0 50 e 100 che rappresentano le nostre percentuali le scritte le creiamo con lo strumento testo quindi 0 eccolo qui lo 0 lo posiziono in prossimità appunto dell'inizio del mio del mio diagramma non troppo attaccato duplico livello 0 contro il d vi ricordate vado a portare in alto tenendo premuto shift sulla tastiera oppure meglio ancora perché piccolino se avete difficoltà zoomate dicevo tenendo premuto il tasto shift sulla tastiera ancorate il movimento sull'asse verticale ok ecco qui lo posizioniamo in alto quando il grafico termina la sua corsa nell'asse verticale ok chiaramente non sarà 0 ma sarà 100 ok da 0 a 100 bellissimo adesso posso utilizzare il righello perché perché con il righello come in photoshop posso tracciarmi delle guide quindi questa l'altezza del 100 ok e vediamo adesso di creare le due barre 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 verticali che rappresenteranno la percentuale di votanti quindi sempre strumento rettangolo senza selezionare nulla sulla timeline disegno il primo la prima barra diamo 0 come valore del bordo diamo un riempimento rosso questa sarà sarà la barra di trump ok faccio la stessa cosa per quanto riguarda biden ovvero la barra blu ma prima una piccola precisazione quando andremo ad animare questa barra io utilizzerò un effetto che si chiama transizione lineare comparsa lineare cosa fa la comparsa lineare la comparsa lineare è una transizione che quando è assente mostra quello che abbiamo sullo schermo quando invece viene applicata fino al 100% nasconde quello che noi abbiamo sul nostro livello mi spiego e per spiegarmi utilizzo lo sfondo se applicassi la comparsa lineare all'immagine di sfondo anzi facciamo che lo applico direttamente qui nascondo i livelli e lavoro solo sullo sfondo ok nascondo anche la griglia ok per adesso nascondo anche la guida dicevo applico la comparsa lineare allo sfondo se io ho il valore 0 questo livello è visibile se questo valore da 0 diventa 100 il livello viene nascosto ok ora io la direzione di questa animazione posso indicarla con l'angolo quindi 180 cosa vuol dire vuol dire che 0 è tutto visibile 100 vedete dall'alto verso il basso viene nascosto se io invece che 100 indicassi 0 avrei tutto il contrario quindi 0 tutto visibile 100 nascosto ma a partire dal basso verso l'alto bene io andrò a utilizzare questo effetto questa transizione non sullo sfondo ovviamente che non mi interessa ma sulle barre del nostro della nostra grafica del nostro della nostra infografica in che modo seleziono la barra che ho creato applico l'effetto e vedrete che ovviamente 0 come angolo quando stiamo allo 0% tutto è visibile quando vado al 100% viene tutto nascosto ora chiaramente io non voglio l'animazione in questo modo voglio il contrario quindi invece che 0 utilizzerò un angolo di 180 quindi quando sarò 0 sarà tutta visibile la barra quando sarò al 100% la barra sarà nascosta ok chiaramente il valore sarà invertito mi spiego un valore del 100% farà sì che la barra non sia nascosta ma sia completamente visibile al contrario la barra un valore di 0% non voglio che la barra sia così colorata ma voglio che la barra sia vuota quindi è esattamente il contrario per spiegarmi meglio il 75 per cento non corrisponderà a questo grafico ma corrisponderà all'opposto corrisponderà al 25 notate una cosa notate come questo 25 per cento o meglio questo 75 per cento per il motivo che vi ho appena detto in realtà sia un po più del 25 per cento se andasse a inserire 50 per cento dovrei avere esattamente la metà di questo grafico ma non è proprio la metà di questo grafico è forse un pochettino di più della metà di questo grafico perché perché questo effetto viene applicato non al livello della barra ma all'intera composizione mi spiego 50 per cento non si riferisce al 50 per cento dell'altezza di questa barra ma all'altezza dell'intero fotogramma se io vado a dare un 75 per cento quindi 25 per cento della grandezza della barra vedete che si intende la diciamo la percentuale non della barra colorata ma dell'intero fotogramma ok questo per capirci è 75 per cento non della barra ma dell'intero fotogramma come faccio per correggere questo che poi non è un difetto è un po la caratteristica dell'effetto comparsa lineare operare sull'intero fotogramma e non sul singolo oggetto come faccio per correggere questo comportamento è semplicissima in realtà vado a pre comporre la barra in altre parole la barra appena creata la anniderò dentro un'altra composizione e la chiamerò barra trump adesso la barra appena creata sarà dentro la nuova composizione questa composizione però io non voglio che sia grande 1920 per 1080 come l'intera composizione principale voglio che sia più piccola e per la precisione voglio che questa composizione sia grande esattamente come questa barra quindi intanto allineo la barra al centro della composizione e vado a modificare la dimensione di questa composizione in maniera tale che la larghezza sia uguale alla nostra barra dobbiamo essere precisi e al free al dettaglio però ecco così dovrebbe andare bene anche un po di più perfetto e l'altezza sia uguale a quella della nostra barra quindi ho esagerato ecco qua qui dobbiamo essere forse un po più precisi ma nemmeno in senso stretto ecco qua perfetto clicco su ok e adesso la composizione della barra rossa sarà esattamente grande all'altezza e alla larghezza della barra rossa ok perché questo è importante perché adesso io quando vado ad applicare l'effetto a comparsa lineare che abbiamo applicato prima questa questo effetto agirà non su tutto il fotogramma ma sulla solo sulla grandezza della composizione della barra che ho appena creato mi spiego se lo do al 50 per cento qui adesso ok questo 50 per cento eccoci qua sarà effettivamente la metà della barra che ho appena disegnato perché stiamo agendo non più sull'intero fotogramma ma solo sulla composizione della barra che è in realtà grande come la barra stessa quindi il 50 per cento è effettivamente la metà della barra che ho appena disegnato ok spero sia chiaro il concetto se avete dubbi scrivete nei commenti e cerchiamo di andare un pochettino oltre questo dubbio quello che però è importante sapere è che noi adesso possiamo duplicare questo questa composizione appena creata creare una nuova composizione duplicata chiamiamola composizione eccola qua cambiamo composizione by den eccoci qua e questa volta questa composizione by den appena creata che però è questa qui eccola qui invece di essere rossa la barra lo facciamo blu ok fantastico quindi noi abbiamo due composizioni che ospitano la barra una rossa e una blu la barra rossa l'abbiamo già inserita inseriamo la barra blu eccola qua e questa sarà la barra che ospiterà il risultato di by den ok o anche qui ovviamente possiamo applicare l'effetto a comparsa lineare in maniera da poter controllare l'altezza di questa barra con l'effetto non solo le due barre le andremo ad inserire ad inserire in basso rispetto al grafico in maniera tale che la linea orizzontale del nostro del nostro le nostre coordinate vada a coprire la base dei due gradi due delle due barre ok fantastico ora chiaramente io seleziono tutto e tutti gli elementi di questo grafico e creano una nuova pre composizione quindi questo sarà il grafico a barre clic ok e come per lo sfondo di prima tutti gli elementi del grafico a barre andranno dentro una nuova composizione che ospiterà solo gli elementi del grafico a barre ok già che ci siamo io voglio impostare anche il valore del 50 per cento qui sul sull'asse verticale quindi visto che ho impostato il valore della barra rossa al 50 per cento mi traccio una linea del righello e la posiziono all'altezza del 50 per cento barra rossa e adesso so che la scritta 50 per cento andrà esattamente qui 50 ok posso buttare via la guida del righello non mi serve più adesso so che questo il 50 per cento quindi sia la barra rossa che la barra blu si riposiziona il 50 per cento ecco saranno effettivamente allineati in maniera corretta 100 per cento andrà in alto 0 per cento la barra assente ok ricordate qui i valori sono invertiti è il motivo che abbiamo detto prima ok voglio adesso importare le due facce dei due candidati biden e trump abbiamo già importate le due immagini ecco qui l'uno ed ecco qui l'altro biden e trump li porto in timeline e iniziamo a lavorare su queste due immagini quindi scala diminuiscono la la grandezza dell'immagine di biden con il livello selezionato seleziono lo strumento per creare una ellisse e quando ho un livello selezionato e creo una forma geometrica for creo in realtà una maschera ok ne abbiamo già parlato creo una maschera circolare sul volto di biden eccolo qua questa è la prima immagine facciamo la stessa cosa per quanto riguarda invece trump scaliamo l'immagine che è molto grande anche qui selezioniamo il livello creiamo un ellisse con il livello selezionato e anche qui abbiamo il volto di trump ora cerchiamo di fare le due fotografie grandi più o meno allo stesso modo posizioniamo le già nel nostro grafico quindi qui abbiamo trump eccolo qua e qui avremo biden ora il mio consiglio è lavorate con photoshop per fare magari le due immagini grandi allo stesso modo ok ora stiamo facendo le cose di fretta quindi non sarò preciso al pixel però potete sovrapporle modificare la trasparenza delle due immagini cercare di fare qualcosa che sia un dico perfetto in questo caso ma almeno simile ok non perdo troppo tempo in questa sede a fare le cose precisissime però ecco queste sono le due immagini alziamone un pochino e sono le due immagini del grafico a barre eccolo qua torniamo nel menu principale ed ecco il nostro grafico a barre disegnato fantastico nella prossima lezione finalmente metteremo mano ai dati veri e propri quindi utilizzeremo un file di testo per comporre lo schema che poi after effect andrà a leggere per prelevare i dati e animare questo grafico in maniera dinamica al prossimo video tutorial alla terza parte di questo tutorial diviso in più parti